Ah, caspita! Sarà divertente quando qualcuno inciamperà nello scotch! Sembreranno tutti dei babbei! Divertente! Robin! Che c'è? Ciao ragazzi! Robin, di là c'è qualcosa per te di molto serio. Di cosa si tratta? Dei tuoi genitori! Sono qui, bello! Wow! Dove sono? Ti stanno aspettando dall'altra parte della porta! Mamma! Papà! Vostro figlio sta arrivando! Pesce d'aprile! Ci sei cascato! Ci sono cascato! Ci sono cascato! È di cattivo gusto! Emma, dai! Non essere negativa, Corvina! È stato così divertente! È divertente! Il divertimento è appena iniziato! Divertimento! Ah! Che cos'è? Eh? Pesce d'aprile! Bello scherzo! Bello scherzo! Ciao, cyborg! Schiaffeggiami! Come vuoi! Oh, ciao, stella! Perché mi hai schiaffeggiato? Ho seguito le istruzioni! Se lo dice il post-it! Esce d'aprile! Esce d'aprile! Bello! Ci sono cascato! Ok, potete smettere di schiaffeggiarmi! È scritto sul post-it! Come, potete smettere di schiaffeggiare! È ero! Grazie a tutti